Con il torneo qui a Prati 37 a Pescara chiudiamo il ciclo del tennis tour a Lovabruzzo, cominciato ad aprile con il Challenger di Roseto degli Abruzzi, poi a giugno abbiamo avuto il torneo a Chieti e nell'omonimo circolo tennis Chieti. Devo dire che tutti i giocatori hanno ampiamente apprezzato questo circuito di Challenger e Future perché sono stati sostanzialmente treventi nello stesso territorio ma su più mesi si è partiti ad aprile per terminare ad agosto e quindi un arco temporale di ben quattro mesi. L'obiettivo e la speranza per l'anno prossimo di poter aumentare le tappe riprendendo anche l'appuntamento con la provincia dell'Aquila.